ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ciao ragazzi come stai bene? sei pronto per questo nuovo gioco? sempre pronto ok mazzo di carte ti chiedo di controllarlo ho messo già da parte le quattro donne quindi due rosse e due nere ti chiedo a questo punto di controllare anche le quattro donne quindi due rosse e due nere tanto io mischio ancora il mazzo è tutto chiaro ma anche un po' scuro perfetto ora dovrai ti spiego scegliere una carta qualsiasi nel mazzo e decidere se inserirla o tra le nere o tra le rosse sei pronto? ok prego la carta che vuoi prendila io non la voglio vedere quindi mi giro e inseriscila farla vedere in camera e inseriscila poi o tra le rosse o tra le nere ok? fatto? ok continuo a tagliare e hai deciso di metterla tra le nere perché non tra le rosse? c'è un motivo ma non so se te lo voglio dire ok se vuoi dirlo puoi dirlo no non lo dico perfetto va bene ok quindi guarda donna carta tua donna le rosse le hai accantonate qui in più taglio taglio e perché non hai scelto le rosse? solo questo lo vuoi dire? è stato istinto? non è una questione delle le rosse non le ave per un motivo quindi non lo so vedi ok perché vedi a volte noi ci pentiamo delle scelte che facciamo se io prendo la prima rossa la seconda rossa davanti ai tuoi occhi le giro possono... hai visto? arrivare a catturare la tua carta ah si ah già lo prego così ma è più difficile il contrario ritornare indietro quindi... guarda... quando la tua carta non c'era è un po strano vero? si questo è sicuramente strano quanto? quanto strano? 10 10? sai perché è ancora più strano questo io continuo a tagliare continuo a mischiare continuo a mischiare continuo a mischiare continuo a mischiare e hanno catturato a 1 proprio aspetta 2 cazzo perché hai scelto le niente? perché era rossa la carta ho detto la voglio mettere però l'ho vista non è salita niente no assolutamente grazie